Non saranno le ore a trascinarmi nel vestibolo serio della circostanza. E nemmeno questo mio tempo a invilupparmi nel mucchio immenso della falcidia. Sarà questa massa di pupo viandante a spingere forte la mia resilienza nel cerchio aperto dell'esistenza. E non sarò contento se non vedrò sparse le ceneri del male nello spazio cosmico del mistero.